Per la prima volta da quando i talebani sono tornati al potere nel 2021, la Germania ha rimpatriato 28 cittadini afghani con precedenti penali. Secondo un portavoce del governo, gli espulsi sono criminali condannati che non avevano il diritto di rimanere in Germania e contro i quali erano già stati emessi ordini di espulsione. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha descritto la mossa come un chiaro segnale che coloro che commettono crimini non possono contare sul fatto che la Germania continui ad ospitarli. Tuttavia la decisione è stata accolta da critiche. Le espulsioni sono avvenute una settimana dopo il mortale attacco con coltello a Solingen. La sezione tedesca di Amnesty International ha dichiarato che il governo si è piegato alle pressioni politiche, che l'Afghanistan non è sicuro e le deportazioni violano il diritto internazionale. Scholz ha ripetutamente affrontato pressioni per adottare misure più severe contro i richiedenti asilo ritenuti pericolosi.